Cari amici, buongiorno, benvenuti, una nuova occasione di scoprire una bellissima storia di imprenditoria. Questa è la serie di filmati e di interviste con cui PO Platform Optic vuole raccontare le storie dei protagonisti dell'ottica. Chi sono i protagonisti dell'ottica? Sono coloro che tutti i giorni si misurano col mercato, svolgono la loro professione sempre più complessa perché il mercato è sempre più complesso e quindi è con grande piacere che noi ne raccontiamo il percorso proprio come testimonianza di valore di un settore molto vitale e tutto sommato ancora poco conosciuto. Oggi giochiamo in casa perché il nostro ospite Alessandro Liprandi in realtà è milanese, quindi noi qui a Casa Platro siamo a Milano e quindi do il benvenuto ad Alessandro. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito e ve lo piacere essere qua. Anche per me, molto piacevole anche perché noi ci siamo conosciuti due anni fa personalmente nel tuo punto vendita che aveva appena aperto, grazie a un evento organizzato da Silhouette Italia che è stato anche con loro che ci hanno fatto incontrare, quindi vi ringrazio moltissimo, anzi oggi abbiamo anche i loro chiari, però non è proprio di presto, vorrei dirlo, ecco non è uno spazio sponsorizzato, quindi lo possiamo dire tranquillamente. E niente, il tuo punto vendita, devo dire che è posizionato in una parte di Milano molto importante perché siamo nel quadrilatero della moda, quindi zona via Monte Napoleone, un posto meraviglioso. La Croce si trova in Biaburgo spesso, nel centro del quadrilatero, penso essere l'unico ottico del quadrilatero, posso definirmi così, indipendente. Il negozio non è nuovo, cioè il punto vendita è nuovo, ma mi sono spostato di 50 metri dal vecchio negozio, quindi lavoro lì da ormai quasi 20 anni, in quella zona lì. Quando ci siamo incontrati, mi ero appena trasferito nel punto vendita nuovo. No, devo dire, è un negozio molto bello, d'altra parte quella è anche una zona che richiede anche a livello di layout, di punto vendita, una certa attenzione, a parte che ci vorrebbe sempre una certa attenzione indipendentemente da dove ci si trovi, però lì chiaramente il tipo di clientela è abituato anche banalmente a delle attività di layout e di vetrine molto importanti, quindi sarebbe un po' distonico non avere cura. Il punto vendita è veramente molto bello, progettato da uno studio di architettura, colpisce, ecco, è differente, però adesso io vorrei farti fare un po' un passo indietro, perché a noi piace raccontare le vostre storie soprattutto anche per far capire qual è stato il percorso, perché l'ottica è veramente poco conosciuta, proprio come tutto l'aspetto sul mercato, cioè voi che tutti i giorni vi confrontate con la clientela che è sempre più esigente e quindi anche tutti gli studenti e tutte le persone che si affacciano a questo mondo o che magari non hanno neanche preso in considerazione, credo che le vostre testimonianze siano importanti per far capire un settore che ha ancora molto da esprimere. Allora, tu non nasci ottico, cioè non nasci da famiglia di ottici, perché questa invece è una caratteristica che si trova abbastanza spesso. Io così per caso, perdevo un po' di tempo in giro, poi ho iniziato a fare questa scuola di ottica senza neanche crederci tanto, invece dopo il primo anno mi sono proprio appassionato, anche perché secondo me è proprio un'attività che ricopre 360 gradi tutto, dall'aspetto della moda, all'aspetto professionale, all'aspetto tecnico, banale montare gli occhiali, che sei un po' artigiano, da fare la visita, che sei, fare il controllo visivo, che ti senti quindi hai a che fare con la visione delle persone, quindi una responsabilità. Poi, alla fine, dall'aspetto dell'occhiale, che è la parte più divertente, sicuramente. Certo. E quindi anche la ricerca del prodotto e... E tutto quello che ne consegue. Infatti, è un mestiere complesso proprio per quello, perché comprende un ventaglio di skill e di professionalità molto... E' molto divertente questo, secondo me. Anche molto impegnativo, perché tu sei solo in negozio. Io sono solo in negozio. Quindi tu? Ho iniziato... Mi sono trovato solo, adesso sto andando avanti da solo. Modo a seguire il cliente, lo fidelizzo come voglio io. Certo. Il famoso ottico di famiglia. Sì, quello che ero nato lì, in quella zona, era come l'ottico di quartiere. Certo. Il quartiere del... Il grampo al quartiere, però l'ottico di quartiere. Poi le cose sono cambiate, ovviamente con gli anni sta cambiando, il mondo sta cambiando. C'è anche molto afflusso turistico, sicuramente. Però tu ci tieni ad avere... Sì, però anche con i turisti si riesce a creare un legame, anche con gli stranieri che magari tornano più volte. Bene. Fa piacere. Rientrano, tornano, vengono clienti americani che quando vengono a Milano vengono a trovarti. Bene. Sempre il piacere. Quindi tu inizi, fai questa scuola, così per caso, tanto perché come scelta... Non so per cosa fare. Esatto. Ti trovi invece coinvolto in una professione che non immaginavi. Inizia a lavorare per altri, giusto? Cioè per altri ottici. Sì, ho iniziato subito, subito iniziando prima... Come magazziniere in un negozio di ottica. Poi sempre in questo negozio sono appena diplomato, mi hanno assunto immediatamente. Anche questo... Bello. Bello. È il segno. È il segno. Me lo ricordo ancora. 29 giugno ho fatto il diploma, l'attestato di ottico. E il 2 luglio mi hanno assunto. Quindi, punti via. Punti via. Poi dopo di che ho cambiato, sono andato in un altro negozio, dove sono riuscito a affinare un po' più la parte professionale, diciamo... Quindi di refrazione. Di refrazione. E poi ho deciso di mettermi da proprio. Quindi hai aperto prima questo negozio che era a pochi metri... Pochi metri, 50 metri da quel negozio, piccolino, e ci sono stato 18 anni, ridendo e scherzando. E poi adesso, nel 2022, si è aperta questa opportunità di aprire il negozio più grande, più visibile, e dopo 18 anni mi sembrava anche il caso di fare qualcos'altro. Giusto, giusto. Di cercare di migliorare. Allora, ascolta, entriamo un po' nella dinamica professionale, no? Noi cerchiamo di raccontare prevalentemente storie di ottici indipendenti. Ottico indipendente vuol dire che non fai parli di nessun gruppo, di nessun tipo di forma diversa, associativa, e questa è una realtà molto importante perché da una parte ti lascia da solo sul mercato, nel senso che le tue decisioni non le puoi confrontare con magari piani marketing più prestabiliti, e quindi diciamo c'è una maggiore responsabilità, dall'altra anche più libertà, no? Nel senso che comunque tu fai una ricerca secondo quelli che sono i tuoi criteri. Che sì, secondo i tuoi gusti. I tuoi gusti anche, assolutamente. Allora, che cosa secondo te bisogna, cioè da ottico indipendente ormai da tanti anni, qual è l'elemento fondamentale per poter rimanere in questo mercato così competitivo? Cioè, che cos'è, qual è quella qualità o quelle qualità, se ce ne sono di più, che secondo te sono proprio imprescindibili per poter essere e rimanere ottico indipendente? Potrei dirti la passione, ma è abbastanza banale, però è quello poi, alla fine perché la voglia di… ma non so come spiegartelo, il rapporto umano anche che crei col cliente, che quello è importante. Cioè, quando tu decidi di fare una cosa e poi questa cosa funziona, ti gratifica tanto. Cioè, dai brand che scegli, per esempio… Questo, ad esempio, è un altro criterio, no? Un altro criterio, sì, ognuno poi sceglie un po' in base, ripeto, un po' al tuo gusto, quindi non a quello. Io, per esempio, ho sempre cercato di… ho cambiato negli anni, da come ero partito, ovviamente cambio il mercato e ho cambiato. Ho cercato di lavorare soprattutto con brand di occhialeria. E questo però spiegalo bene, perché non è banale, cioè, non con le griffe. Non con le griffe. Le griffe sono, diciamo, licenze che vengono assunte da produttori di occhiali. No, invece ci sono dei brand che nascono e muoiono, diciamo, sono brand proprio di occhiali, tipo, appunto, Silhouette, ad esempio, ma… Non c'è il banalissimo Ray-Ban, per esempio. Certo, Persol, cioè, sono marchi che nascono nell'occhialeria. E poi, marchi magari più di ricerca, dai marchi giapponesi oppure dai brand indipendenti made in Italy che, secondo me, fanno dei prodotti interessanti e uno può provare a lavorare bene con loro. Ecco. Però, soprattutto, il discorso era quello, anche perché essendo circondato da tutte le griffe, io ce l'ho tutte lì. Vabbè, tutte? Non è che hai ottici con le griffe, tu hai le griffe direttamente. L'intorno, quindi non… E quindi, no competition, cioè, non puoi, certo. L'occhiale della griffe, vado a comprare la griffe. Ebbè, certo, tu giri l'angolo a Chanel, giri l'angolo, c'è Valentino, quindi loro ormai le mezzone di moda… Questo è quello che è cambiato. Quando ho aperto non era così. Cioè, l'occhiale, l'occhiale da vista, l'occhiale da sole, lo compravi dall'ottico. Punto. Certo. Adesso… E quindi tu come scelta di differenziazione hai fatto questa, che mi sembra già una strategia assolutamente intelligente. Senti, tu dicevi del Made in Italy. Sì. È una leva che il consumatore richiede o è ancora un qualche cosa che deve essere spiegato? Cioè, c'è una richiesta, una spinta, una maggiore simpatia? Vabbè, sugli stranieri la do quasi per scontato, ma neanche tanto. Sì, sugli stranieri sì. Però anche sui tuoi clienti fidelizzati. Sui clienti fidelizzati, allora, sui clienti fidelizzati, posso dire, meno male, si fidano molto di quello che gli dico. Ok. Quindi può… È una scelta quindi più di estetica perché dà per scontato che i brand che tu gli proponi… Di estetica o di richiesta, ho bisogno, non so, abbiamo ancora di silhouette, un occhiale leggero. Ok. Passiamo già, è già un'indicazione su che occhiale… Certo. Ecco. Sullo straniero, invece, ho notato ultimamente, soprattutto, che richiedono tanto i made in Italy, ma made in Italy di brand indipendenti. Cioè, non i made in Italy, faccio sempre il nome, non made in Italy perso, che è un made in Italy, ma made in Italy proprio di brand, di aziende piccole, magari… Perché c'è il gusto, magari, di dire… Quello che non trovano in aeroporto, per esempio. Beh, questa è una bella scoperta, no? Davvero, no? Lo dico. Cioè, quindi c'è la necessità di avere la cosa unica, c'è la chicca… L'occhiale che magari non trovano nei vari corner degli aeroporti o in giro per il mondo, cioè. Beh, questo è molto interessante. E senti, tu questa ricerca di questi brand la fai, appunto, attraverso il web, attraverso le fiere… Fiere, copio anche qualche collega… Vabbè. Controllo le varie pagine social dei miei colleghi e prendo ispirazione. E poi le fiere, secondo me, sono importantissime, perché ti permette anche di annusare, posso dire, come è la situazione e come potrebbe funzionare il mercato, in che direzione può andare il mercato, ecco. E poi, ripeto, il gusto. Certo. Purtroppo ci sono delle cose che a me non piacciono e faccio fattiglia. Non le prendo perché poi non riesco a venderle. Certo, vabbè, assolutamente, è difficile. Purtroppo, ecco, la cosa brutta di essere da soli è quello, che il negozio diventa proprio… Tua immagine e somiglianza. Sì. Beh, però è anche quell'elemento forse che fidelizza, no? Cioè, però quando sei ammalato come fai, scusa? Cioè, tornano quando stai bene. No, per adesso è capitato meno… Grazie. C'è le cose. È capitato poche volte, poche volte. Allora, ti dico, prima del Covid era più facile, perché con la febbre andavi in negozio e stavi lì. Adesso se vai in negozio che non stai bene, ti guardano un po' male. Sì, giusto. Quindi è controproducente andare. Però per adesso penso di aver chiuso pochissimi giorni. C'è stato un periodo dove ho trovato una mia amica collega che mi ha aiutato tanto. Ecco, quindi, no, perché è impegnativo, eh? Cioè, sei giorni, cinque… no, sei giorni alla settimana, perché ho detto domenica e mezza giornata… Sì, lunedì lavoriamo sul… facciamo il suo appuntamento lunedì. Dedichiamo così abbiamo creato questa… ho creato questa fascia dove se il cliente vuole essere seguito maggiormente, gli dedico delle ore il lunedì. Anche perché durante la settimana non riesco a prendere appuntamenti, perché io do un appuntamento, e poi entra uno di passaggio e non lo posso mandare via. Certo, invece lunedì lo devi chiuso. Lì il negozio è chiuso e vediamo il suo appuntamento. Oppure è capitato anche, molte volte, una volta è capitato un cliente alle sei del mattino, mi ha chiesto, aperto, andiamo, facciamo. Si fa. Si fa. D'altra parte, anche questo fa parte del lavoro. Esatto, immagino che sia uno fedelizzato che ci chiede quello, perché sennò è difficile pensare diversamente. E quindi tu fai tutta la parte di refrazione, ovviamente. Fai tutta la parte di refrazione, montaggio e riscerto dell'occhiato, sì. Beh, insomma, bell'impegno. Adesso ultimamente ho una collaboratrice che mi aiuta sul discorso dei social, della comunicazione. Ecco, e questo volevo dire. Allora, come si comunica ottica di planchi? Io non lo so, non lo so. Questo è bellissimo. Ragazzi, mi sgrida, dice, meno fai, meglio è. Credo che possa aver ragione, probabilmente. E quindi lei, si occupa lei di tutto, dalla pagina social, sito e... Ecco, questo è l'unico aiuto esterno che ho preso. Beh, però mi sembra anche una presa di consapevolezza, no? Perché non è che si può sapere tutto. Poi oggi, soprattutto la parte di comunicazione legata ai social, che è quasi imprescindibile, soprattutto per chi ha attività, sono... Cioè, è un'arma a doppio taglio, no? Quindi a volte è meglio non fare niente, piuttosto che farlo male, quindi... Guarda, quando è venuta a ragazzi aiutarmi, ha preso la mia pagina Instagram del negozio e incominciato a dire, ma perché hai fatto questo? Ma perché? E questo, no, questo... E mi ha cancellato tutto, perché diceva, facevo di quelle... Esatto. Di quei disastri. Quel punto lì ha iniziato lei, io... Mi sgrida sempre, perché faccio... Non sono assolutamente social io, quindi... Vabbè, però c'è chi lo fa per te. E senti, e tu trovi che la comunicazione in un qualche modo ti abbia aiutato su... Sì, comunque è importante far parlare di sé, in qualunque modo, però... Beh, meglio bene, meglio bene, meglio... I social meglio bene, perché... Era giusto, è giusto, no, è vero, l'importante è far parlare, però insomma i social possono veramente essere molto... Quindi tu, ovvio, hai basato, mi sembra, l'attività molto sul passaparola, che comunque è sempre una leva di marketing fondamentale, perché finché hai il passaparola... È quello che funziona ancora meglio. Esatto. Però in un mondo di comunicazione è anche giusto dotarsi di questi mezzi, perché possono comunque catturare tutta una perdita di potenziali clienti, che non è mai male, no, perché insomma non è mai sedersi... Quindi farlo con un professionista è giusto, quindi mi chiedevo se però, appunto, avevi potuto, tu che sei abituato a basarti sul passaparola, se avevi notato un beneficio anche di tipo commerciale, oppure magari troppo poco, eh? Abbiamo iniziato da un anno e mezzo, quindi ci vuole il suo tempo. Secondo me, sì, devo ancora capire quanto anche la nuova location aiuta, perché comunque la nuova location è più visiva, quindi si vede di più e quindi c'è più passaggio e sicuramente c'è stato un aumento anche della vendita dell'occhiale da sole, che è proprio quello dell'occhiale del passaggio, ecco. Certo. Però, sì, secondo me hai un vantaggio, hai un vantaggio, hai un vantaggio anche dalle stesse aziende, che comunque sei più appetibile, anche per loro. Certo. Perché comunque aiuti anche le aziende, cioè diventa un lavoro, una collaborazione. Certo. E quindi? Quindi secondo me, sì, ha un vantaggio. Poi il problema è che, come tu ben sai, è una cosa che continua a cambiare, cioè quello che stai facendo adesso è già vecchio. Assolutamente. Senti, invece l'ultima domanda che può sembrare superficiale, ma non lo è, visto dove tu sei posizionato col negozio, che è tutt'altro che semplice in quell'area lì, cioè tutta la parte di esposizione di vetrina, perché tu hai il negozio con due belle vetrine, no? Quindi entri, no? Hai una più, diciamo, proprio dove ci può stare solo l'occhiale e un'altra invece più ampia. C'è qualche d'uno che la cura oppure sei sempre tu? Sono sempre io. Qua l'ho fatta con l'architetto. Meno male. Meno male. Abbiamo proprio studiato questa cosa dove mettere solo gli occhiali, anche per semplificare il mio lavoro. Cambio l'occhiale e non sto a inventarmi cose che anche quelle non fanno parte della mia capacità, quindi farei dei danni anche lì. Quindi più facile possibile e cerchiamo di mettere in evidenza solo l'occhiale, cioè quello che interessa alla fine è quello. Poi da lì è una cosa che possiamo sempre cambiare, perché quello che va bene adesso probabilmente tra qualche anno non va più bene. Certo, certo. Quindi bisogna sempre modificare. Beh, ma tu come brand hai un turnover oppure hai delle fidelizzazioni anche con, perché la fidelizzazione a volte è anche con le aziende, anzi, che diventano più partner che fornitori. Sì. Quindi tu quella cosa dice l'hai? Cioè, con molti ebrei, torno a parlare di Silluede, con Silluede da quando aperto. Ok. Cioè, con loro abbiamo fatto anche delle collaborazioni con degli eventi insieme, anche con altre aziende, siamo intanto ben disposto, magari facciamo qualche operativo, qualche presentazione in negozio. E questo funziona? Sì, sì, comunque. Crei movimento. E come creiamo materiale per i social. Sì, anche. Che è importante anche quello. Beh, però anche dare un'idea di vitalità. Vita, del negozio, comunque brand nuovi le cose, tutto. Cioè, è importante sempre fare qualcosa, senza mai perdere il discorso che siamo lì per vendere gli occhiali. Certo. Per fare il lavoro fatto bene. Per fare il lavoro fatto bene, quindi farli vedere, soprattutto quando non si tratta di occhiali da soli. Perché l'occhiale può essere bello, ma se non si è capace poi a fare le lenti, cioè lì nascono i problemi. Sì, questo è il problema. Allora, amici, se vi trovate nel quadrillato della Moda di Milano, passate a salutare Alessandro Liprandi. Il negozio è bellissimo. Alessandro, io ti ringrazio molto. È stato un piacere. E passerò a trovarti. Magari ci vediamo prossimamente. In bocca al lupo. Ti aspetto per la settimana. Sì, per la settimana del design, visto che lì c'è sempre moltissimo, moltissimo fervore. E niente, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, grazie mille, grazie ancora. Un giorno, arrivederci.